Il recupero della centralità del corpo nell'età moderna comincia dopo un lungo medioevo nel quale la cultura ufficiale aveva enfatizzato la frattura, la scissione, la condanna nei confronti alla dimensione della corporeità. La cultura popolare invece aveva forse goduto con maggiore volutà i piaceri che venivano condannati come peccati dalla Chiesa, almeno ufficialmente. Il senso medievale del carnevale oppure quello che si legge anche nei Carmina Burana, poi musicati da Carlo Orffa nel 1937, fa sì che noi possiamo riconoscere un altro medioevo nel quale il corpo è un oggetto di piacere e di soddisfazione. Nell'età umanistico-rinascimentale però il corpo viene recuperato in tutta la sua grandezza, in tutto il suo splendore. Ne sono prova la venere del Botticelli, le tavole anatomiche del Vesalio. Il corpo torna a essere protagonista della filosofia. L'uomo, l'uomo che si può rappresentare come l'uomo vitruviano, è microcosmo di un macrocosmo. In esso converge tutto il creato. La ricerca della classificazione delle passioni occupa una parte consistente del pensiero del Seicento. Descartes, Pascal, Spinoza si occupano della questione. Si tratta di una questione affrontata con intento scientifico. Conoscere le passioni significa poterle dominare, secondo Descartes. In Descartes, infatti, la scissione tra corpo e mente torna ad essere molto forte. Il corpo è quasi un estraneo per la mente. Ma le passioni vanno conosciute. Non sono esse un male di per sé stesso. Sono però un ostacolo se finiscono per dominare l'intelletto e dominare la volontà. Scopo della filosofia è appunto riconoscere le passioni dell'anima allo scopo di poterle dominare. Pascal si impegna nei suoi pensieri per classificare le passioni perché esse sono umanissime, ma al tempo stesso conducono l'uomo verso il divertissement, verso l'allontanamento dal criterio e dal fine ultimo che deve essere posto nella conduzione della vita, ossia la ricerca della salvezza eterna. In Spinoza, la classificazione delle passioni, degli affetti, a partire dagli affetti primari, la cupiditas, il conatus e conservandi, la letizia e la tristezza, costituiscono le forme di un asservimento dell'uomo a forme di conoscenza ancora inadeguate. Conoscere le passioni significa poter oltrepassarle e poter dirigere la mente verso il riconoscimento dell'amore di Dio. Un altro importante passaggio nel riconoscimento della centralità del corpo è quello costituito da Thomas Hobbes. In Hobbes si afferma un paradigma fisicalista, corporeista, tutto è corpo, Dio stesso è corpo. Le nostre conoscenze sono riconducibili a fatti fisici reali, ma da ciò deriva un modello di conoscenza innovativo, poiché le forme ideali della rielaborazione della percezione risultano essere alla fine fondate su convenzioni. A questo punto, per Hobbes, il sapere autentico, la certezza, la verità, non si trovano più nella corrispondenza tra il mondo dei corpi là fuori e il mondo del pensiero qui dentro, ma al contrario, soltanto nelle discipline che rispettano la convenzione che l'uomo fissa, ossia la politica, la morale e la matematica. La fisica, che era ritenuto il sapere più certo nel corso del Seicento, invece è un sapere solo verosibile.